Andrea, cos'è per te la resilienza? La resilienza per me è stata quello stimolo nel riprendermi la mia vita e migliorare la mia vita di prima. Quindi da una situazione negativa, diciamo da una situazione sfavorevole, da una situazione molto critica come è stata la mia subito dopo la malattia, ho cercato di valorizzare, di amplificare tutto ciò che era rimasto senza preoccuparmi e pensare troppo a cosa non c'era. Ho guardato tutte le nuove possibilità e queste nuove possibilità nel tempo mi hanno portato, mi hanno fatto maturare e mi hanno portato a fare cose che mai avrei pensato di fare prima. Questa per me è la resilienza, la mia resilienza che da una malattia, da una malattia dove tutti mi dicevano che non avrei più scalato, non avrei più arrampicato, non avrei più corso, ho voluto dimostrare che con la determinazione, insistere, determinazione, cadendo e ripartendo si possono fare anche cose ben più di quelle che potevo fare prima e dimostrando anche che poi si poteva tornare a fare veramente una vita, mi viene da dire, a tutto gas. Grazie 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 Grazie